Ragazzi, oggi probabilmente conosceremo i nostri avversari al Girone Nel Girone sinceramente non me ne frega niente Le preferenze dei avversari che vuole incontrare Finchè sono in squadra con Mazzanica non ho paura di niente e di nessuno Ogni avversario che incontra cercherà di asfaltarlo, giusto? Sempre Andiamo a chiedere il parere del nostro mister Siamo nel C Nel C? C***o Mazzanica Non posso dire parolacce Quanto hai pagato l'abbonamento, Vignali? 25 euro a mese Oh, se si alza c'è la forma sua sul lettino Sempre, sempre Paolino Vignali sul lettino Pubblica che si la vede, è tipo la fiata che c'ho Poi se Mazzanica sta come sabato Con il carretto e il trattore attaccato dietro Stavo a pezzi, Leone Stavo a pezzi Allora, Gironi, cosa dicevi? Bravamo a te sabato Che è sta roba? La colpa sai di chi è? È tua Sì, è vero, la colpa in effetti è mia Dov'è Panelli? Ogni riccio un capriccio, dicevano Ma non parlo Con Foggia, Panemmo Prendiamo le randellate da tutti e via Poi magari se ci vogliono rendere facile il campionato Inseriscono il Mantua Così come squadra cuscinetto Magari riusciamo a salvarci Tutte le mattine da dove parti? Dicci da dove parti tutte le mattine? Tescarzo Tescarzo, in provincia di? Brescia Vicino alla Svizzera In che zona? Primo portiera nella storia Che mette i guanti senza le mani Ho visto più torta Gino in un momento Sì, torta male Bravo, ecco l'hai Anche te che stai sghiacciando i piedi Hai fatto l'entrata a te Infatti hai aperto anche una ditta di imballaggio Esatto Imballarli cittumano ci riesce a vedere Panelli! Qua l'uomo succhiotto Eccolo Tieni qua Ciao a tutti Allora, vediamo, vediamo, vediamo Ok Ma tu c'è? E' con noi dall'inizio del ritiro No, che primo giorno Ah, infatti non l'avevo mai visto Vuoi vedere? Alza le mani Vediamo se ce l'hai davvero Sì? Ma perché ti passa sempre in mezzo Lui che l'anno scorso ha fatto più presenza al papete beach Che in campo A Cesena lo ricordano per questo Quest'anno La qualità Solo pranzo Mamma mia che casino quei piedacci di io Casino C'è da lavorarci quest'anno Ragazzi non è ancora arrivata l'elettricità in quel di Pescarzo Al terza settimana di ritiro Non ci sono più muscoli da massaggiare Anna naa, na 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 na